Il big match della settima giornata è sicuramente quello che si disputa a Cupello, con i locali quarti in classifica quota 12 che ricevono l'ambizioso lauretum, seconda forza del campionato che aspira ad un immediato ritorno nel torneo di eccellenza. L'avvio dei padroni di casa sembra promettente, tant'è vero che le prime tre annotazioni sul nostro taccuino sono di marca virtussina. Al terzo Di Francesco prova a sorprendere Zirpolo, ma il suo pallonetto si alza sul fondo. Al quindicesimo lo stesso Di Francesco scodella al centro per Carosella, la cui incornata spedisce la sfera a fil di palo. Pochi minuti dopo Di Lello impegna Zirpolo con questa conclusione dal limite. Il lauretum sornione comincia a prendere le misure agli avversari e si fa vivo in avanti con la bordata di De Angelis che impegna severamente Garibaldi. Al trentanovesimo il lauretum sblocca il risultato con lo sgusciante Nobilio, abito a sfruttare un lancio verticale e a sorprendere Garibaldi in uscita. La squadra di casa cerca di reagire al colpo subito e sfiora il pari con Carosella neutralizzato da Zirpolo e dalla retroguardia bianca-azzurra. Si va dunque al riposo col vantaggio degli ospiti che vanno addirittura al raddoppio nelle prime battute della seconda frazione. Al dodicesimo per l'esattezza, D'Aloisio si fa trovare pronto per lo stacco aereo sull'ottimo traversone dalla destra. Per Garibaldi non c'è scampo. L'undici del presidente Pescheto, la penalizzato oltre misura dal pesante passivo, cerca in qualche modo di reagire ma senza apprezzabili risultati. Al ventottesimo Zirpolo si destreggia agevolmente per annullare gli effetti del calcio da fermo di Cicchini. Pochi secondi dopo, Dilello spedisce di pochissimo allato. Poco dopo la mezz'ora, lo stesso Dilello si protende vanamente in tuffo per tentare lo stacco aereo davanti alla linea di porta. La Virtus, particolarmente scalognata nella circostanza, centra il legno trasversale con il tiro da fermo di Emiliano Rossi. Dalla parte opposta, il pericoloso traversone di Gaspari, che aggira anche Garibaldi, attraversa pericolosamente la linea di porta avversaria. L'ultimo acuto della Virtus è di Dilello, che tira centralmente all'indirizzo di Zirpolo. Sicuramente è più cinico il Lauretum che firma il triscon Panico, il quale scavalca Garibaldi con un preciso pallonetto. Mister Di Pietro, tecnico di Lauretum. Una vittoria rovante, 3-0, su un campo difficile come quello della Virtus Cupello. Sì, è una vittoria importante. Temevamo molto questa squadra perché conoscevo un po' di gente, visto che tra di noi ci sta Nicola che mi aveva parlato bene di questa squadra. Campo difficile, squadra dura da affrontare, però noi ci siamo comportati bene, ci siamo difesi con ordine e ogni volta che ripartavamo eravamo pericolosi. Questa in sostanza penso che la vittoria sia meritata da parte mia e da parte della nostra squadra. Sono contento perché alla fine stiamo giocando con tre under ogni partita, in panchina tutti under. È una squadra giovane e venire a fare il risultato in questi campi non fa altro che crescere e maturare i nostri ragazzi. Le ambizioni del Lauretum è quella di tornare al più presto nel catico superiore, in eccellenza? Noi come obiettivo principale dopo una retrocessione come quella dell'anno scorso c'eravamo posti di ricreare entusiasmo, di ricompattare l'ambiente, di rifare una squadra nuova composta da tanti ragazzi e senza porci obiettivi, di andare domenica su domenica su ogni campo a cercare di giocarcela e poi gli obiettivi non ce li siamo prefissati. Il nostro obiettivo principale, quello della società è quello di far crescere i ragazzi, ma nel vero senso della parola perché abbiamo un gruppo che viene da quattro anni di lavoro in cui abbiamo fatto due anni di finale allievi, uno juniores, due giovanissimi, insomma c'è tutto il lavoro alle spalle e adesso piano piano proviamo a raccogliere i frutti. Chiaro che è un mix con giocatori esperti che hanno personalità, che aiutano questi ragazzi a crescere, altrimenti non è possibile fare risultati su questi campi. Francesco Pescheto, la presidente della Virtus Cupello, una sconfitta oggi sul proprio campo contro una squadra forte come quella del Laureto? Sì, naturalmente la sconfitta comunque fa male, però devo dire, i ragazzi del Cupello non hanno giocato male, hanno fatto una bella partita, loro si sono difesi bene, d'altronde voi avete le immagini, loro su tre occasioni hanno fatto tre gol, noi ne abbiamo avuto almeno 4-5 e sfortunatamente non siamo riusciti a fare gol. Una statistica della Virtus Cupello che non riesce a pareggiare, o le vince o le perde? Noi o ne diamo o ne prendiamo, il mister ha un modo di giocare che è facile vincere o perdere, cioè c'è un modo di giocare che in contropiede magari ti possono far male, però se prendiamo la giornata facciamo male noi.